Bisogna riaccendere il motore delle costruzioni e questo l'ha capito anche l'Europa col piano Juncker, solo che prima che parta e prima che tocchi l'Italia occorre molto tempo. Il secondo, il problema dell'Italia non è un problema di crescita come ci viene presentato, ma è un problema di spaccatura del Paese. La crescita del Nord Italia, nelle mie rozze valutazioni perché l'Istat non ci dà la ripartizione del saggio di crescita che io chiamo il pollo di trilusso, se cresciamo dell'1% il Nord cresce al 2% e il Sud a meno 1% e con queste due indicazioni non si può fare una media perché la media perde significato, quindi il dibattito sulla crescita è un dibattito privo di significato e per l'ennesima volta chiede all'Istat di produrre queste informazioni. Terza invece è elementare, ogni aumento di tasse consente ai governi di spendere di più, non abbiamo ancora visto che il gettito delle tasse da Mario Monti in poi si sia tramutato in una riduzione del rapporto debito pubblico PIL. Anche adesso che dicono che a fine anno il rapporto debito pubblico PIL diminuirà, io non so come ce la faranno perché se cresciamo al 2% e il disavanzo pubblico è del 3, quindi 3 sul PIL, quindi significa che il numeratore cresce più del denominatore, mi domando come possa ridurre. Guardate che al 2% non cresciamo, cresciamo al massimo all'1%.